Il Comune di Teramo pensa ad una soluzione green per far tornare a lavorare palestre e centri sportivi cittadini chiusi a causa del Covid. In queste ore si sta discutendo della possibilità di concedere loro aree del lungo fiume per le lezioni all'aperto. Come i ristoranti hanno il loro dehors, anche le palestre, grazie a questa iniziativa dell'amministrazione comunale, potranno utilizzare il suolo pubblico per svolgere le proprie attività. Stiamo pensando di offrire quelli che sono gli spazi verdi della città alle realtà che intenderanno soffrirne per utilizzare questi spazi o per implementare la loro attività nell'ottica di una ripartenza anche delle strutture. Gratuitamente? Allora, su questo stiamo lavorando perché c'è la normativa nazionale che prevede che l'occupazione di suolo pubblico sia esentata per le attività di esercenti, bar e ristoranti. Quindi stiamo capendo se si può estendere anche a queste realtà. Quindi ci sono una serie di verifiche in corso. Ovviamente quello che ci preme è di rendere fruibile quanto più massimo possibile tutto quello che può agevolare e andare incontro alle esigenze di questo momento. Quando deciderete definitivamente? Allora, la nostra intenzione è quella di confrontarci anche con queste realtà, ma a breve, perché stiamo andando anche incontro alla bella stagione e anche non abbiamo quasi più, non hanno più neanche il tempo di aspettare. Oltre alla concessione di spazi pubblici all'aperto, il Comune di Teramo sta discutendo con le palestre anche su una riduzione sostanziale della Tari. Tutto questo nell'ottica di una ripartenza. Tutto questo nell'ottica di un'ottica di un'ottica.